Ciao a tutti! Hi everybody! This video is in Italian, but don't worry, because you can read the translation in the subtitles. Siamo appena arrivati a Praiano e più precisamente a Marina di Praia. Questo è un posto veramente speciale e durante questo video lo conosceremo meglio. Puoi arrivare a Marina di Praia in autobus oppure in auto. Infatti qui sono disponibili dei parcheggi anche se i posti sono chiaramente limitati. Stiamo osservando questa magnifica spiaggia dall'alto, dalla strada dove troviamo appunto la fermata dell'autobus. Sotto vediamo la spiaggia incastonata tra due maestose pareti rocciose. Qui troviamo anche alcuni hotel e ristoranti. Scendiamo per accedere alla spiaggia. La spiaggia è molto caratteristica ed il mare fantastico. L'unica nota negativa è che proprio a causa delle due pareti rocciose laterali che rendono tanto particolare questa spiaggia, il sole la illumina solo nelle ore centrali della giornata. Possiamo comunque oltrepassare questa spiaggia seguendo il sentiero che corre lungo la costiera per trovare altre opzioni per rilassarsi e nuotare. Andiamo ad esplorare! Andiamo ad esplorare! Grazie a tutti! 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 See you in the next video! Bye! Ciao!